Ciao bello, sono Loridis e siamo su un piccolo video, oppure un'idea che ho avuto, perché molte volte sotto i commenti o in live su Twitch arriva una persona che mi dicono che non riescono a trovare persone con cui giocare, quindi per fare una cosa carina, intanto il video lo chiamerò cerca compagno cerca team, così nei commenti qua sotto scrivete magari, che ne so, se dice oro3, scrivi cerco team3v3, sono oro3 e lasci il tuo nick in più ti ricordo che nella descrizione di ogni mio video c'è il link al nostro server discord, ovvero al mio server discord in cui siamo già un bel po' e se volete cercare team fate una capatina e penso che qualcosa potete trovare fammi sapere se l'idea ti piace perché posso così farlo magari, non lo so, ogni due settimane, ogni toti tempo posso fare questo video in cui cerca il compagno a cui giocare così lasciando il commento qui sotto uno ti può trovare e altro, penso che sia un'idea carina fammi sapere che ne pensi, buona domenica e mi raccomando allenati tanto che poi devi fare bellissimi gol va bene, e ci vediamo alla prossima, ciao ciao ciao